spiriti maligni quelli buoni non fanno un cazzo sei praticamente costretto a rivolgerti agli spiriti maligni che cazzo stai facendo? voglio resuscitare la mamma cosa? da quando lei è morta? la nostra vita è data in merda ci ho appena migliorato la vita lo capisci? no tu eri chiuso da ragazzo brutto idiota piuttosto mi parli di suo figlio che rapporto ha con suo figlio? non sono pazzo è un vecchio rito una vergine per un defunto ma quella che cazzo è? è la mia? è la mamma? a me sembra un cazzo di zombie non è la stessa cosa perché... perché punza? no idiota grazie a tutti Grazie a tutti